La situazione meteorologica per il fine settimana vede l'avecinamento di una profonda depressione sul Mediterraneo occidentale verso l'Italia e all'inizio della prossima settimana tra la depressione poi si allontanerà verso la Repubblica Ceca. Prevediamo per sabato, quindi cielo nuvoloso, tendente a coperto nella seconda parte della giornata, sarà possibile qualche precipitazione, inizialmente debole e sporadica in giornata, poi in serata moderata e più diffusa sul territorio regionale. Nevicate, sempre moderata in serata, quota 600-800 metri circa, in rialzo sulle prealpi nelle ore notturne. Soffrirà vento di bora, in genere moderato su pianura e costa, tendenzialmente in rinforzo. Temperature minime intorno ai 5 gradi sulla pianura, intorno ai 9 sulla costa, massime intorno agli 11 gradi su pianura e costa. La giornata di domenica vedrà brutto tempo con cielo coperto, piogge diffuse, abbondanti a est, intense a ovest, molto intense sulle prealpi carniche. Nedicherà in maniera abbondante in montagna, 800.000 metri della quota neve sulle Alpi, intorno ai 1.300-1.500 metri sulle prealpi più esposte alla pianura, quote un po' più basse sulla parte più interna della fascia prealpina. Nel pomeriggio ci sarà una relativa attenuazione delle piogge, con piogge più intermittenti e valori più moderati, sulle zone orientali, mentre continuerà a piovere con continuità in quelle occidentali. Poi, dalla sera, dovremo avere una nuova intensificazione delle piogge, delle precipitazioni, di nuovo diffuse su tutto il territorio regionale. Soffiera a vento, di bora moderato in pianura e sostanzialmente sulla costa in giornata. Dalla sera e nella notte su lunedì, bora forte su tutta la regione e quindi anche in pianura. Temperature in lieve aumento nei valori minimi, si porteranno intorno ai 6-8 gradi sulla pianura, intorno agli 8-10 gradi sulla costa. Le massime aumenteranno di un paio di gradi, fino a 13-14 gradi segnatamente sulla bassa pianura e sulla costa. Lo serotermico in montagna dovrebbe portarsi intorno ai 1.500 metri circa. Lunedì ancora brutto tempo, piogge abbondanti diffuse, nevicate a 700 mm circa in montagna, un miglioramento appena martedì. E dall'Osservatorio Meteo dell'ARPA, Arturo Puccillo vi saluta.